Tutti noi in questi giorni stiamo tentando di rispondere alle domande del censimento. E questa sera vi presentiamo un signore che alla domanda sulla professione che esercita risponderà con una parola meravigliosa, forse con la più bella professione del mondo, poeta. Vi abbiamo presentato dei grandi industriali, più recentemente un grande avvocato e questa sera vi presentiamo un grande poeta. Un uomo che all'inizio, alla fine della prima guerra mondiale, era già considerato un maestro di poesia in tutta Europa. Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti è nato nel 1888 ad Alessandria d'Egitto da genitori lucchesi. Ed è considerato da una generazione, forse da due generazioni di italiani, un maestro della nostra poesia moderna. Non vi farò un'analisi critica della poesia di Giuseppe Ungaretti. Io non sono un critico letterario, ma mi permetterò di ricordare, di rievocare due episodi della mia vita che si riallacciano in qualche modo ad Ungaretti. Nel 1942, una mattina di primavera, io ho ricevuto da Milano una telefonata dell'editore Mondadori, il quale mi diceva della Giovanna e è rientrato in Italia dal Brasile Giuseppe Ungaretti. Lo ricerchi e gli offra un contratto per la stampa di tutte le sue opere a qualunque prezzo. Io andai a cercare Ungaretti in una pensione di via Vittoria Colonna, se ben ricordo, e decidemmo di fare questo contratto che portò alla stampa di quelle opere oggi diffusissime e di cui la prima è questa, se non mi sbaglio, l'allegria che ancora conservo come ricordo di quell'avvenimento. E ricordo anche di aver avuto la fortuna di assistere alla sua prima lezione all'Università di Roma, nell'Aula Magna, una sera, parlò su Leopardi, se non mi sbaglio, e c'era tutto il mondo intellettuale di Roma, c'era il mondo elegante di Roma e c'erano centinaia e centinaia di studenti che stavano nei corridoi perché non riuscivano a entrare nell'Aula Magna oramai già gremita di gente. Perché ho voluto ricordare queste due cose? Lo ho voluto ricordare perché in un'epoca in cui noi tutti ci lamentiamo ogni giorno dell'invadenza del materialismo, della prepotenza di questo materialismo che sembra voglia corrodere, travolgere l'umanità, ci fu un momento in cui un grande editore disse «Le poesie di Ungaretti non dobbiamo stampare tutte a qualunque prezzo». Ci fu un momento in cui Ungaretti si presentò all'Università di Roma e accorse tutta la città, intendo dire tutta la città, una forte rappresentanza della città per ascoltarlo. E quindi immagino che anche questa sera ai telespettatori faccia piacere di avere sul loro schermo di casa questa figura di poeta, di far conoscenza con Giuseppe Ungaretti che ci racconterà qualche cosa di sé fra pochi istanti e dopo, come al solito, secondo oramai la tradizione della nostra rubrica, sarà interrogato da tre miei colleghi. Carlo Laurenzi, Alfredo Mezio e... Adesso qui devo fare una parentesi e una correzione perché purtroppo io non sono un collega di Leonardo Sinisgalli. Leonardo Sinisgalli è un poeta, vorrei essere anch'io il suo collega, ma non lo sono. E quindi noi ci riserviamo anzi di ascoltare con particolare interesse le domande che il poeta Leonardo Sinisgalli farà al poeta Giuseppe Ungaretti. Ora però vorrei che Ungaretti ci dicesse qualche cosa di sé o della sua vita. Sono commosso delle parole troppo gentili che mi ha rivolto della Giovanna. ha ricordato due episodi importanti della mia vita, la pubblicazione presso Mondadori della mia opera e la prima lezione all'Università di Roma e anche ha ricordato la pensione dove io stavo in Via Vittoria a Colonna. In quella pensione abitava un uomo al quale io devo molto, che è stato un grande critico, Alfredo Gargiulo. e voglio qui ricordarlo perché la mia opera o la fama mia è legata alla sua penetrazione, alla sua penetrante intelligenza. La mia vita, la mia vita è stata dura e ho fatto il poeta nei ritagli di tempo e ho fatto sempre un secondo mestiere e ho fatto il giornalista, è stato, è un mestiere nobile e sono fiero di averlo esercitato per lunghi anni. e ho fatto il professore ed è un altro nobile mestiere, ora sono sul punto di abbandonarlo per sempre ma do a contatto dei giovani e certo una delle esperienze più vere che un uomo possa fare e anche un poeta. L'umanità si conosce meglio nei giovani, i giovani sono sinceri, i giovani non hanno ancora provato troppo la vita e vi si abbandonano e quindi si scoprono, si scoprono la loro autenticità umana. e altro, e beh vorrei ricordare come è nata la, come è nata al pubblico la mia poesia, non come è nata in me perché quella è una cosa che non saprei spiegare, come è nata al pubblico. È nata nel, sono, sono 50 anni, sono quasi 50 anni, quindi oggi si celebrerebbero qui le mie nozze d'oro con la poesia, sì, sono quasi 50 anni a Parigi e dunque in un caffè, la Closery de Lille, dove ci si riuniva, credo tutti i martedì, intorno a Paul Ford, che era il principe dei poeti, questo principato, è un principato, era già ridicolo allora, ma ora sembra che sia caduto interamente nel ridicolo, ma insomma lasciamo andare. E dunque c'era lì, in questo caffè, che tutti i martedì riuniva i poeti di ogni nazione, Parigi era carica di gente, di poeti veri o falsi, ma di ogni paese, e si riuniva lì intorno a Paul Ford, e lì incontrai Soffici, Palazzeschi, e Marinetti, e Papini, che erano arrivati a Parigi in occasione della fondazione, credo delle soiree de Paris da parte di Apollinaire. In che anno era, pressapopo? Era, doveva essere verso il 12, verso il 12, e allora dissero, di recente, in occasione dei miei 70 anni, sono passati già da un po' di tempo, Palazzeschi ha ricordato l'episodio, e allora in quel, mi presentarono a Soffici, dico agli amici che ho già nominato, e mi chiesero questi amici di dare, e dissero che ero poeta, mi chiesero di dar loro delle poesie, avevo delle poesie, io non pensavo a pubblicarle, avevo delle poesie, e allora quelle poesie sono state le mie prime poesie uscite in rivista, in La Cerba, soprattutto, sì, per opera di Palazzeschi, di Papini, e di Soffici, ai quali Papini non c'è più, ma Soffici e Palazzeschi sono ancora vivi, e rivolgo loro un saluto affettuoso. Professore, vogliamo sentire che cosa dice il nostro amico Leonardo Sidi Sgalli? Ungaretti è il maestro di tutta una generazione di poeti, è la mia generazione, è la generazione dei poeti ermetici. Che cosa ha insegnato Ungaretti alla mia generazione? Ungaretti ci ha fatto vedere i pericoli, i vizi più grossi della poesia, il vizio della retorica, il vizio del sentimentalismo, e il vizio, diciamo, del futurismo. Ungaretti ci ha fatto vedere come nemici D'Annunzio, I Crepuscolari e Marinetti. Questo è stato il suo grande insegnamento. Quindi noi abbiamo avuto lui come maestro. E io vorrei chiedere a Ungaretti chi si scelse lui come guida, come maestro, quando cominciò a fare più di 50 anni fa le sue prime poesie. i poeti che mi attrassero subito sono due. Un poeta italiano che è Leopardi e un poeta francese che è Malarmé. è curioso, io ho conosciuto Malarmé ancora ragazzo, ancora scolaro e mi battevo con i miei compagni perché i miei compagni consideravano che era un poeta oscuro come lo è di fatti e non lo capivo neanche io, ma c'era qualche cosa in Malarmé che mi attraeva. ma c'era sentivo che in quella poesia in quella poesia intensa c'era un segreto e che la poesia è poesia quando porta in sé un segreto. Se la poesia è decifrabile nel modo più elementare non è più poesia e non è più poesia. Anche la poesia che pare semplice è una poesia che contiene un segreto. Non ha bisogno di contenere il segreto con quelle difficoltà da letterato che vi metteva il Malarmé ma deve contenere un segreto. Leopardi aveva capito benissimo che la poesia doveva contenere un segreto. Si prenda per esempio la primavera. La primavera è di solito considerata come una poesia neoclassica. Non è affatto una poesia neoclassica. Si prenda il titolo. Il titolo dice della primavera ovvero delle favole meridiane. delle favole antiche e allora quando si va e poi si va a vedere le annotazioni di Leopardi e si trova per la parola antiche una spiegazione straordinaria. Si trova nel Mersio che il Leopardi cita al quale rimanda il lettore si trova nel Mersio che antiche è il contrario di Posticca cioè è un punto cardinale antiche vuol dire meridiane e allora nel dire antiche Leopardi vuol dire che sono di un tempo lontano e nello stesso tempo vuol dire che sono del tempo del mesogiorno che ci è lontano e in questa parola antiche in questa parola ambivalente il Leopardi vuol dare questo senso della durata dal tempo del calore dal tempo antico quando l'uomo era vicino alla natura al nostro tempo isteridito dall'intelligenza è tutto pieno di queste parole difficili a capirsi la primavera soprattutto la primavera dove in modo particolare il Leopardi ha esercitato la sua eleganza professore io sono sempre affascinato da quello che lei racconta e quello che ci ha detto così bello così interessante ma dobbiamo continuare con questa routine delle domande adesso diamo diciamo chiediamo a Mezio se vuole rivolgerle una domanda io volevo siccome Ungheretti ha ricordato l'inizio della sua vita letteraria a Parigi i rapporti con Porforo i poeti della Closerie di Alillà e c'è un poeta che tutti conoscono così che è stato importante per tutti è stato un mito una passione ma per Ungheretti è stato qualcosa di più è stato un capitolo della sua vita è Apollineri con Apollineri credo che abbia avuto lei dei rapporti non so quelli che possono avere un poeta con un altro poeta e siccome so che è stato importante per lei se lei può ricordare qualcosa di questi rapporti di questa super amicizia poetica insomma tra uomini che poi i contatti con Apollineri sono stati frequenti fino dal primo momento fino da quell'occasione nella quale incontrai Soffici e Palazzeschi e Papini che mi indussero a pubblicare per la prima volta poesie mie l'incontro che mi rimane più impresso del 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 mio rapporto con Apollineri è l'ultimo incontro Apollineri mi aveva scritto ero a Parigi ero in zona di guerra in Champagne dove dalla Champagne al momento dell'armistizio alla fine della guerra fu inviato a Parigi per la redazione di un giornale destinato ai soldati che si chiamava il sempre avanti e Apollineri mi aveva chiesto che tornando a Parigi li portassi dei toscani dei quali che gli piacevano e io tornai a Parigi e andai subito in Boulevard Saint Germain a incontrare Apollineri era il giorno dell'armistizio il 4 novembre credo il 3 novembre non so del 18 era la città era rumorosa e la gente urlava Abba Guillaume Abba Guillaume Abba Guillaume Guillaume era l'imperatore l'imperatore di Germania e io vado su già questo Abba Guillaume mi aveva sconcertato andavo a vedere Guillaume Apollineri e andavo vado su e entro nella camera e Apollineri era disteso sul suo letto e con il viso coperto da un velo nero era morto era morto e stava lì con il quadro che gli aveva dato per le nozze e Picasso capo al letto ecco questo è il ricordo che conservo di Apollineri più terribile con quei gridi di Abba Guillaume e quell'uomo 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 magnifico comparso ci siamo concessi qualche breve pausa perché non volevo turbare il suo ricordo possiamo procedere professore e allora Laurenzi le chiederà qualche cosa ora si lei ha parlato del segreto della poesia in modo illuminante ce ne ha parlato quello è il segreto alto esoterico della poesia forse però anzi certamente la curiosità del pubblico che si interessa ai poeti probabilmente più di quanto non si creda vorrebbe io credo conoscere qualche cosa circa il segreto spicciolo della poesia direi forse il meccanismo della poesia stessa cioè in parole più povere lei scrive delle poesie alcune delle quali sono famose non soltanto per la loro importanza ma anche per la loro concinità per la loro estrema brevità il Lumino di Immenso è una delle più famose da questo punto di vista come le scrive lei tecnicamente voglio dire è il fatto musicale che primeggia in lei o è il fatto concettuale o è qualche cosa che la tormenta all'improvviso e si chiude dentro se stesso e anche in una stanza prigioniero in un faro come diceva Baudelaire oppure per la strada in mezzo agli altri uomini in un tram su quel piccolo treno di Marino così famoso a un certo momento nella storia di letteratura contemporanea proprio perché lei lo prendeva ogni giorno per andare a Roma e per tornare a Marino ogni sera ma si fa poesia non so sento non non pensandoci perché perché occorre farla ho fatto ho scritto il primo libro di poesia il porto sepolto e poi una parte dell'allegria l'ho scritta in trincea l'ho scritta su quei pezzetti di carta che mi capitava ad avere sulla cosa l'involucro delle pallottole di cartone su delle cartoline infrantiche e così fra nel pericolo fra un tiro e l'altro no? ma oggi normalmente il procedimento normale ma non si sa avviene così d'un tratto un'idea e poi questa idea vi tormenta e poi scrivete qualche cosa e poi vi ritorna ancora e poi continuate e poi a volte è un lavoro lungo a volte è un lavoro che si fa in pochi momenti no? non so l'isola per esempio è una che è una poesia lunga anche elaborata del sentimento del tempo è una poesia che mi è nata in una notte altre poesie brevissime mi richiedono sei mesi di lavoro non sono mai a posto si seguono con l'orecchio non si sa poi che cosa sia questo orecchio non si sa che cosa sia perché l'orecchio poi va dietro al significato va dietro al suono va dietro a tante cose non si sa insomma tutto deve finire col combinare e col dare la sensazione che si è espressa la poesia no? non si è mai espressa veramente si è sempre scontenti no? si è sempre scontenti no? si vorrebbe che fosse detto diversamente ma la parola la parola è impotente la parola la parola è impotente la parola non riescerà mai a dare il segreto che è in noi mai lo avvicina quindi anche questo mistero minore per male non soltanto l'alto mistero ma anche il mistero spicciolo della poesia è ancora qui non lo risolveremo non lo risolveremo no? Leonardo vuoi chiedere qualche cosa? si io ho indicato prima i grandi pericoli da cui Ungaretti ha salvato la mia generazione di poeti abbiamo detto la retorica il sentimentalismo è il libertinaggio poetico adesso vorrei scusa Leonardo per chiarezza anche mia che cosa intendi per libertinaggio poetico? ho detto prima come analogia il futurismo no? l'eccessiva libertà espressiva grazie scusa vorrei adesso sentire da Ungaretti tra quelli che universalmente sono indicati come gli obiettivi della poesia cioè la verità la bellezza e la libertà del poeta la libertà morale del poeta e la libertà di esprimersi quale secondo lui oggi è più urgente? la libertà di esprimersi tutti gli altri sono valori gli accessori dipendenti se uno ha la libertà di esprimersi a tutto il resto si può chiedere? certo come vedi Ungaretti allora questa poesia che si dice engagé cioè legata a dei principi che non sono principi di libertà io ho fatto una volta a un incontro tra poeti italiani e sovietici un incontro molto molto simpatico e ho fatto alcune dichiarazioni alcune dichiarazioni dove erano poste in chiaro queste difficoltà che si erano presentate a me sempre e come io avevo tentato nella nella mia lunga esperienza di risolverle alcuni anni fa e precisamente nel 50 mi domandò qualcuno quale fosse la mia posizione di fronte a quegli scrittori che affermano la necessità di stabilire un equilibrio tra espressione artistica e attività sociale risposi non sono i fatti esterni che fanno lo scrittore è lo scrittore che giudica mediante la propria opera tali fatti dai quali se è vero scrittore non potrà mai essere determinato certo per natura ogni uomo e lo scrittore è nella storia e non fuori della storia ma se uno scrittore non riesce nella propria opera ad esprimerla la storia infondendole il soffio e dandole l'impronta del proprio personale esistere è uno scrittore secondario del quale la storia non terrà affatto conto uno scrittore un poeta è sempre secondo me impegnato indagando i propri tempi per conoscerli e il rapporto ad essi indagando se per conoscersi impegnato a fare ritrovare all'uomo le fonti della vita morale che le strutture sociali di qualsiasi costituzione siano hanno sempre tendenza a corrompere e a disseccare leonardo ti pare che questa sia la risposta alla domanda che avevi posto io sono abbastanza soddisfatto della risposta che mi ha dato un caretti e spero che serva anche agli ascoltatori per chiarire cose veramente complesse perché non fai una una chiosa perché un caretti ha detto come il poeta può stare nella storia e ha detto che la deve dominare ha detto che deve essere un giudice ha detto soprattutto che deve difendere la sua personalità non deve essere succupe della storia questa è la conclusione che tiro io quindi torniamo alla risposta immediata che ti ha dato che la libertà di espressione è essenziale questo è quello che pensavo anche io